Siamo a Palazzo Marino con Marcello Pace, amministratore delegato di Pitta Rosso, che presenta la nuova edizione di Pink Parade, un appuntamento che si rinnova ma con un importante significato. Buongiorno a tutti, sono il nuovo amministratore delegato di Pitta Rosso e Pitta Rosso è stato associato con questa favolosa iniziativa già da un certo numero di anni e una delle cose, non devo dire che è una delle cose che mi ha convinto a collaborare con Pitta Rosso è stata questa iniziativa, ma sono estremamente contento di esserne parte. Passo dopo passo, e non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo nel business delle scarpe, passo dopo passo si fanno dei passi avanti per la conoscenza e per cercare di risolvere questo grande problema. Noi ci siamo e speriamo che ci sarete anche voi in massa il 28 ottobre. Anche perché il passo di quest'anno sarà un passo che tenterà di entrare nel Guinness dei primi anni. Esatto, è una cosa super exciting, non vediamo l'ora, cercheremo di entrare nel Guinness dei primati con la costituzione del più grande fiocco rosa mai fatta al mondo.